Insomma a Lodi, prendevamo il treno per Parma e parlavamo, parlavamo, Marco parlava un sacco No parlavamo, parlava probabilmente, perché conoscendolo Intratteneva, intratteneva, era molto simpatico Tanto che una volta siamo scesi alla fermata convinti di essere ritornati a Lodi Invece eravamo in un posto che si chiama Secuñago, esiste? Sì, sì esiste Secuñago Siamo scesi lì perché parlando non c'eravamo accorti della fermata Insomma siamo trovati nel nulla e ho questo ricordo E come l'ha risolta? Mi interessa sapere come l'ha risolta Ho chiamato qualche amico che è andato a prenderlo con te Sai che non so se c'era un altro cellulare? Se non aveva amici Avrebbe dovuto improvvisare, Iroge avrebbe improvvisato un bivacco per voi Avrebbe improvvisato un bivacco Un'occupazione di un luogo abbandonato Erano tempi dove non c'era l'ansia, anche se prendi il treno dopo va bene Esatto, quello è vero Quante volte l'hai mandato a cagare? Non dirmi neanche una perché non ci credo No, no, no Lei devi sapere Ma no, sai Noi abbiamo C'è io questo stile dove ogni tanto se Non mi becco con te così Mi sottraggo Cioè sparisco un po', capito? Allora ti sei sottratta Mi sottraggo un po', poi magari dopo qualche mese riaffioro Ecco, faccio così Evito però gli scontri diretti perché mi creano poi nervosismo Quindi preferisco, che ne so, sparire per un po' di mesi Poi ci risentiamo Io ci ho messo dieci anni per capire come trattarlo È una persona a cui voglio molto bene, un caro amico No, è carino, è carino, dai Marco Ogni tanto, però con Elena abbiamo imparato un po' da una parte e dall'altra a cercarlo Non sta commentando, non sta commentando Quindi ti sta dando piena fiducia Ma scusa, ma sta parlando male di questa persona? Ma si offenderà No, non sta parlando male Allora, è una persona di un'intelligenza, di una preparazione vastissima Mi ha solo bannato in seguito a un commento sulla Juventus Quando si parla, ha ragione Fedora Si parla veramente di tutto e di qualsiasi cosa È vivace Esatto Però ogni tanto si prende male Gli diamo la possibilità di vendicarsi di questa chiacchierata Nella prima puntata della pastiglia D'Alice nella città Sai però, adesso dico questa Perché è simpatico Posso si la dico tanto A quel limite mi dici non è vero Però sai che Fedora ha un piedater Che non è proprio ter È un primo piano In una località molto centrale della cittadina Della cittadina di Crema E quando accade qualcosa a notte fonda Tipo gente che spacca bottiglie Lei lo comunica direttamente al nostro Marco Eh beh, lui è lì Cioè, a qualsiasi Ma guarda un attimo In comune, quindi Così, argomenti che possono interessare al comune Io li comunico Ma dov'è la zona macchinette che vuole andare a vederlo? Cos'è? La zona macchinette Ma non c'è più niente che può interessare a te Non è più una zona abbandonata È stata completamente riqualificata Perché dicono che c'è pieno di barboni Io volevo andare a trovare il tossico dipendente No, no, a bere con loro La zona che ti può interessare è la zona Everest Everest Che è quella Segna, Rogi Prendi appunti Lungo il canale Di fronte all'ex Vandenberg No, perché durante il lockdown Io uscivo e andavo a crema con gli alcolisti In che senso? Andavo lì al parco di Marte a bere Ah, ciao Mi chiamo Emanuele Non sono mai chiamato più Uscivano dalla standa loro E stavo lì con loro Perché erano l'unica persona Che erano in giro Ma che cosa facevi? Gli chiedevi? Bivaccavo anch'io Ma come ti presentavi? Cioè non erano incuriositi dal fatto che tu No, più di tanto Sono venuto qua a comprare delle cose a crema Sono di Castellone Bivaccavo con loro Ho capito E la zona lì Quella dell'ex Everest È la zona dove c'è stato il centro sociale Stalingrado E io non l'ho vissuto Ma adesso non stanno costruendo tutto un... La zona Everest È difficile toccarla Perché è piena di amianto Quindi lì la riqualificazione è abbastanza La zona di fronte ferriera Sì è in fase di riqualificazione Ma di qua è abbastanza difficile È una zona che ha una storia interessantissima Perché l'Everest è stata la prima azienda A produrre la macchina da scrivere Con la tastiera Querti Prima ancora L'Olivetti è arrivata a crema Perché c'era l'Everest Che era l'ex serio Che nel 1900 Fine 1800 Inizia il 1900 Per prima al mondo Produsse una macchina da scrivere Con la tastiera Querti Quella che conosciamo E non su due file di tasti Esatto Come negli anni Nell'800 Bellissimo Bellissimo No, invece L'altra sodale è Elena Crotti Giusto? Possiamo fare un ritratto Fai un ritratto di Elena Crotti Per presentare Per me è una sorella Praticamente Una carissima amica È una persona A cui voglio molto bene Veramente Però è anche una persona Con cui ho un rapporto Di un certo tipo Perché Prendendole un po' in giro Ma con affetto Io Per 40 anni Ho avuto Un carissimo amico Con cui sono cresciuto L'amico Carlo Che si è trasferito Poi a Napoli Quando si è Trovato l'amore Si è sposato E l'ho perso E abbandonato il Mandelli 10-12 anni fa E contemporaneamente Elena che già conoscevo Ha sostituito È diventato Il mio più caro amico Comunque È una cosa strana Che No, è strano Comunque Delle amicizie femminili Molto forti Ma lei è molto maschile Sotto certi punti di vista Ma lo sto mica giudicando È appassionata di musica Di fumetti Di film di supereroi È molto più nerd di me In certe cose E quindi Quando passiamo Partiamo in discussioni E però fumetti in musica Pensavo Dicesi tipo calcio No calcio neanche Capisco più di uncinetto Che di calcio No Quel lato maschile Non voglio essere Però Certo Certi interessi Che normalmente Sono più Prattamente maschile È bella questa cosa Molto Molto bella Quando si parte A parlare di musica Del scuro gruppo O delle storie Così Per delle ore Quindi potrebbero uscire Delle cose Interessanti Assolutamente Anzi devi Devi anche Imitarmi ogni tanto Perché con lei Sicuramente mi prendo Mi prendo No? Nel senso che C'è tantissimo amore Nella tua descrizione Sì vabbè Lo sai che poi Allora Tu sai che La gente Quando invecchia E poi ha dei problemi fisici Diventa improvvisamente Sentimentale Un sentimentale Al cazzo Ecco Io sono diventato Sono diventato così Purtroppo Quindi potrei piangere In un momento Non farlo Beh oddio Potresti anche farlo Sarà un gran colpo di scena Per la puntata Improvvisamente No no Con tutto questo affetto Come facciamo a scartare Una trasmissione del genere Non si pede Non si pede Poi è la quota cremasca È vero Perché a Castellione C'è sempre questo tema Infernale Adesso la cremonese È andata in Serie A So che a te Non te ne frega niente di calcio Io calcio capisco Però io da cremasco Emigrato Qui a Castellione È sempre pittoresco Sentire i clacson Che festeggiano Mi sono passato di qua Che festeggiano La cremonese Che va in Serie A O vedere le bandiere grigiosse Mi sono passato Dalla piazza Mi ha andato Ho delle bandierine In mano Le hanno date a Giussi È stato un momento Di allegria Che anch'io di calcio Non lo seguo È stato un momento Di allegria Ho fatto il giro Di tutti i bar Con Giussi Con la bandiera E soprattutto Anche qua da Alice Ma senza Non me lo sento dentro Però mi è piaciuta Questa cosa Che fermavo le macchine Davano le bandierine Insomma dai No vabbè Ma scherzi Ti piace il festeggiare In generale Sì Sono andato in clacson E via dai Ascolta Una cosa sola La pastiglia Mi sembra che Avessero durato Abbastanza breve Sì durava 10-12 minuti Come pensi Di traslarla In un format Stiamo appunto discutendo L'idea è quella Di fare invece Che un blocco Di 5 minuti a testa Ogni blocco Puoi anche Utilizzare eventualmente Dei passaggi musicali Perché insisto Perché abbiamo fatto Questo esperimento L'ultima puntata Quindi c'è il modo Eventualmente sappi Che hai anche questo Joe Alla fine di ogni puntata Infatti c'era una canzone Che era magari O citata O richiamata In uno dei tre blocchi Quindi spesso Facebook Miocava qualche puntata Ma c'è un appuntamento D'Alice Dedicato alla Psichiatria Psicologia Allora questo Accade venerdì E sabato prossimo Perché maggio Rimane ancora Diciamo con la programmazione Classica Di Alice nella città Venerdì Sarà un concerto Di Davide Zilli Psichiatria Una cosa del genere Gioca con lo swing Psicanali swing Sì E dopo Con Gianni Salta La troma Insomma una band La sera dopo Con Valeria Adesso mamma mia Fate fare brutta figura Che non mi ricordo i nomi Ti viene in mente Di chiedermi Perché ho visto La programmazione Valeria Pinoni Psicologa e psicoterapeuta Una chiacchierata collettiva Sul libro di follia Di Patrick McGrath Ecco Io devo segnarmi Questa data Che mi interessa molto Venerdì e sabato Quattro pubblicità Dai Bravissimo Venerdì e sabato Sempre alle 21 Entrambi gli atti Poi il sabato successivo C'è un altro appuntamento Di letteratura In musica Con un cremasco Ancora una volta Ed Warner Che Accompagnato da Ruben Gardel Maestro Ruben Gardel Al flauto traverso Quindi un reading Diciamo Parapoetico Poi avremo Un laboratorio per bambini La domenica Quindi puoi stare a casa Oggi E chiudiamo A fine mese Con il passo ballabile Quindi La pizzica e Taranta Come piace a te Porca miseria Devo segnare Devo rinunciare La heavy metal Per venire qua A vedere Un po' di pizzica Ormai ascolti Fiordaliso Un po' di pizzica Ma che ha comprato Delle cose ultimamente Fiordaliso L'ho trovata In abbandono Totale E l'ho presa Quando si trova Si trova In un Nel trash Mi ha superato Nettamente Ha della roba Veramente impensabile Sembra Non so Il DJ Di Radio Italia Sulla musica italiana Dell'84 E poi Il giorno dopo Regurgitation Esatto Va bene Quindi Abbiamo sentito Tutti quanti Quelli che dovevamo Selezionare Sono appena arrivato Eh ma Sei appena arrivato Una mezz'ora E invece Pensa Hai fatto 22 minuti di slot Quindi sappi che Anche troppo Sei stato bravissimo Come sempre Non avevamo dubbi Tanto affetto Ci hai messo Quindi Penso che la pastiglia Sarà un Come dire Un traino Se ce la faremo Comunque Io al massimo Poi ci sentiamo Il mattino Per sera Ti tappo qualche buco Con qualche cagata Non ti preoccupare Le cose migliori Adesso con calma Andremo a definire Un po' un calendario Incominceremo a segnarci dentro Dobbiamo prenotarci Fedora Perché avrà molti impegni Erogi te lo dico All'inizio di giugno Sarà spesso assente O doppia O arrivo doppio O non ci siamo Esatto O arriva doppia O non arriva È così che deve andare È giusto così Io ringraziamo tutti quanti Hanno assistito da casa Quelli che erano qui presenti Anche oggi A pazientare intorno Alle nostre stupidaggini Grazie per tutti Questi esperimenti Che abbiamo messo In campo oggi Ringrazio Alla regia Come sempre Big Andrew Ringrazio Roger Ringrazio Fedora Maggià E l'ultimo ospite Che ha Come dire Che ha tenuto banco C'è il Mandelli Grazie mille Ciao a tutti È stato bellissimo Grazie 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 a tutti